ciao a tutti io sono francesca e adesso sto andando alla bottega a prendere delle cosine ecco qua ho preso due brioche uno al cioccolato e uno all'albicocca e adesso vi faccio il mac bang eccoci qua continuo il vlog così allora mia figlia appena finito di mangiare adesso io vado a prendermi un gelato e poi faccio il mac bang ne approfitto quando sono da sola appunto per farvi questi mac bang tanto comunque il gelato lo posso mangiare allora continuiamo così vlog oggi è sabato e stiamo andando al labirinto pokemon è un'ora di distanza e vabbè andiamo a vedere come è fatto magari vi faccio un vlog a parte se vi è fatto bene se no no e vabbè io adesso faccio merenda e gioco un po a pokemon grazie a tutti allora siamo partiti e siamo adesso in autogreen come potete vedere allora abbiamo fatto un altro po di spesa però ho deciso che alla fine vi faccio il video spesa a parte perché tantissima roba quindi vabbè e allora abbia ho preso da game stop aveva preso praticamente delle carte dei buoni un buono amazon e due buoni per il nintendo e shop perché ci sono sempre degli sconti quindi tanto avere un po di credito libero poi dopo come si dice scaricarsi dei giochi sconti io ho preso un gioco di mario a 20 euro invece che a 60 quindi perché era in offerta comunque ho preso queste adesso l'ho vinto aprire però io ho preso chiuse questo suona ma non suona a me per fortuna e la lascio chiuse però si lo pagate 4,98 da game stop e voglio provare ad aprire queste qui con voi in qualche modo ci riuscirò allora ho vinto mini bellina ovviamente non si apre la scatola credo o si apre però non mi interessa la lascio così molto molto bella nell'altra ho vinto pluto che manco a farla apposta oggi per mia figlia abbiamo preso questo bucazzo qua di pluto in autogrill e poi adesso vado ad aprire questa qua paperina cioè daisy praticamente sono molto belle queste qui allora io non le colleziono le ho preso giusti così perché ho visto la scritta disney quindi però le ho prese e sono molto molto belle soprattutto queste qua di nightmare before christmas sono molto molto carine tra l'altro in autogrill ho preso oltre al peluche di pluto anche questo se sentite ha è il mio compagno che sta dando la merenda mia figlia allora vado ad aprirne una e poi vi faccio vedere quello che becco dentro questo qui tra l'altro dovrebbe essere sì tom e jerry ne ho presi due di tom e jerry e uno dei luni tunes allora ho vinto questo portachiavi qua e il chupa chupa questo qui adesso vado ad aprire questo qua l'altro e vediamo cosa ci trovo dentro allora il chupa chupa è lo stesso penso che non cambi nessuno e ho vinto questo portachiavi qua questo invece è quello che abbiamo vinto nel chupa chupa dei luni tunes comunque adesso metto un po' a posto tutto allora vi faccio vedere velocemente com'è appunto questo chalet specchio, sedia, pendiabiti letto, qua c'è un quadro vabbè non dritto di qua c'è appunto il bagno e qua c'è l'armadio è in muratura eh quindi però diciamo qua c'è anche uno sportello per mettere le cose è perfetto c'è più bello questo qui rispetto a quello dell'altra volta e questo è diciamo l'home tour ecco non c'è la cucina ma noi abbiamo il fornellino quello di da campeggio allora mi sono dimenticata praticamente di farvi vedere cosa ho preso ieri al toys adesso che io avevo apprenato adesso che stiamo mettendo a posto ho preso per fare dei video assaggi una è questa e vabbè questa roba qua questa però forse non l'abbiamo presa al toys comunque la roba della Enervic non l'assaggio io ve lo dico subito non è per me io assaggio queste due cose qua e quello della cioccips poi abbiamo preso anche la prima del disconto questi insomma quelle clip per il ciuccio per intenderci e basta questo è quello che abbiamo preso ieri e niente adesso finiamo di mettere a posto allora questa è la mia cena e niente poi mangio anche un po' di insalata e noi ci becchiamo dopo è martedì e questo è il mio pranzo ci ho messo un po' di sale io chiudo il vlog così adesso siamo a Riccione stasera mangiamo la pizza ho prontato ieri sera proprio all'ultima però in realtà da un po' che diciamo appunto siccome andiamo a San Marino così per Ferragosto noi andiamo a mangiare la pizza e quindi vabbè adesso ci siamo sono le 5 del pomeriggio e adesso il mio compagno è andato a a scambiare i soldi per pagare il parcheggio perché vogliono solo le monete e e niente io pensavo oggi di andare in piscina però mi sembri ero dimenticata ieri che oggi è Ferragosto e quindi niente ci andiamo domani in piscina ci andiamo per ci andiamo per un po' di ore nel senso che stiamo là dalla mattina alla sera tanto comunque siamo per lì all'interno del campeggio io comunque voglio mangiare quindi siamo tranquilli vabbè detto questo io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao